Questa settimana abbiamo visto che non esiste l'organizzazione perfetta. Ogni impresa deve dotarsi dell'organizzazione coerente con il proprio obiettivo strategico. Se cambiano gli obiettivi o la tipologia degli impianti utilizzati per raggiungerli, bisogna adeguare la nostra organizzazione. I diversi ruoli aziendali richiedono skill e caratteristiche personali diverse. Bisogna sempre trovare il giusto matching tra la persona con le sue doti e i suoi talenti e le necessità dell'organizzazione. Se questo non avviene, occorre sostituire questa persona perché possiamo realizzare l'obiettivo dell'insieme. La coerenza tra l'organizzazione e la strategia di sviluppo è fondamentale per il successo di un'azienda e non può essere sacrificata perché il singolo non può o peggio non vuole adeguarsi. In ultima analisi, il vero ruolo dell'imprenditore è definire la strategia di sviluppo e organizzare l'azienda affinché la si realizzi. Buon lavoro! Buon lavoro! Grazie a tutti.